buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è 19 gennaio siamo nella giornata prossima ormai alla fine della settimana siamo a metà insomma il giovedì 19 gennaio 2023 siamo pronti per la lettura dei giornali e vediamo subito oggi quale santo festeggiamo anzi dobbiamo dire quali santi festeggiamo vediamo subito la grafica vediamo che sono i santi mario marta abaco e audiface sono martiri a roma ebbene mario e marta erano marito e moglie mentre abaco e audiface erano i loro figli perirono sotto la persecuzione dell'imperatore diocleziano decapitati perché sorpresi a seppellire cristiani anch'essi decapitati che erano stati abbandonati in aperta campagna erano veramente tempi duri per chi si professava nella fede con la fede cristiana le previsioni del tempo le previsioni del tempo vediamo che questa mattina il tempo è migliorato rispetto alla pioggia che ha imperversato nella giornata di ieri oggi ci sono comunque cieli molto nuvolosi in tutta la regione o coperti con deboli piogge per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da ovest al pomeriggio tesi da ovest sud ovest il mare è poco mosso e le temperature si aggirano sono un po ribassate rispetto a ieri dai 2 ai 9 gradi e questa mattina comunque il cielo era su fano abbastanza sereno c'era una bellissima falce di luna che risplendeva nel cielo magari con una luminosità attenuata bene questo è il nostro incipit questa mattina e ora apriamo i giornali e vediamo le notizie del giorno vediamo l'apertura sul resto del carlino sulla pagina di fano ebbene è un evento un episodio di solidarietà che viene proposto oggi dal giornale una bici per il piccolo thomas felicità è una pedalata insieme ebbene è una famiglia che ha lanciato una sottoscrizione per regalare a un bambino una bicicletta speciale bambino è disabile e con questa bicicletta almeno potrebbe muoversi vediamo i particolari di questa notizia i fanesi silvia e matteo lucarelli sono genitori di un bimbo di sei anni affetto da un grave deficit psicomotorio hanno organizzato una raccolta di fondi per acquistare un mezzo speciale con cui trasportare il piccolo si tratta di una bici che costa 9.000 euro in veneto ce ne sarebbe una usata disponibile a una pedana in cui metti thomas nel passeggino spiega la mamma silvia e la pedalata assistita così ieri ho iniziato questa raccolta di fondi un primo passo verso una vita più simile a quella a possibilmente normale ma questo aggettivo questo questa parola è difficile a confrontarsi poi con la realtà comunque un po più di libertà a questo bambino per il bene del loro figlio thomas come dicevo affetto da un grave deficit psicomotorio hanno cercato di superare questo grande problema purtroppo ha detto la mamma dopo la nascita di thomas ho dovuto smettere di lavorare per dedicarmi a lui tutto il giorno h24 il bambino è ipovedente non regge né testa né tronco l'elenco dei suoi problemi è veramente lungo il mio è solo che non posso più lavorare perché non c'è assistenza in questi casi e tutta la famiglia si deve dedicare alla cura di questo bambino la mamma faceva la bartender che era una barista specializzata in determinate somministrazioni del bar però ha dovuto rinunciare al suo lavoro e dedicarsi completamente alla famiglia nell'articolo del giornale viene pubblicato anche il link in cui è possibile contribuire alla campagna di solidarietà per questo piccolo e poi vediamo invece a fondo pagina una notizia importante sapete anche vasco rossi è diventato socio della carnevalesca di fano ebbene socio del carnevale ebbene questo bel colpo scusate l'espressione è stato messo a segno da daniele carboni che fa parte del direttivo dell'ente carnevalesca ebbene daniele carboni è molto appassionato nel settore della musica lui stesso è stato corista tempo fa del gruppo degli schianto su un gruppo bolognese e tramite amici comuni è riuscito a contattare vasco rossi è andato nella sua località a zocca in provincia di modena lo ha incontrato ebbene gli ha proposto di diventare socio della carnevalesca e vasco rossi ha accettato e la fotografia che pubblica il resto del carino ma pubblica anche il corriere adriatico questa mattina evidenzia daniele carboni e vasco rossi con la testa della carnevalesca e vasco rossi in testa anche il capolino il cappellino del museo della batteria un museo che è stato proprio fondato da daniele carboni a bellocchi e vi invito anche a vederlo per gli appassionati di musica soprattutto ci sono delle riproduzioni delle più famose batterie usate dai complessi nella storia della musica veniamo ora alle altre notizie sant'arcangelo cantiere sbloccato finalmente bisognerebbe dire è stato bloccato per molti mesi dall'estate scorsa per un ricorso che ha evidenziato che ha fatto la seconda ditta arrivata nella classifica in questa posizione rispetto alla prima nella gara d'appalto ha fatto un ricorso al tar lo ha vinto poi c'è stato un contro ricorso al consiglio di stato che ha dato ragione a quanto aveva deciso originariamente la commissione giudicante quindi la ditta pensi ora riprende i lavori certo questo il ritardo accumulato inciderà sulla fine dei lavori che si prolungheranno per il 2023 e forse anche nel 2024 vediamo come evidenzia il titolo il resto del carlino sant'arcangelo cantiere sbloccato corsa contro il tempo per i lavori dopo lo stop di quasi nove mesi per il ricorso al tar della seconda ditta in graduatoria l'impresa ora può ripartire ne parla anche l'assessore ai servizi educativi samuele mascarini il crono programma va completamente rivisto ora purtroppo gli studenti però non dovranno risentirne chi sono gli studenti sono gli studenti della scuola media padalino che occupano le aule proprio accanto al cantiere si doveva lavorare in estate quando i ragazzi erano in vacanza però il cantiere è stato bloccato e ora la concomitanza dei lavori si cerca fa sì che insomma si cerca di non incidere nell'attività didattica appunto dei ragazzi ed ora passiamo a sant'ippolito a sant'ippolito ma restiamo sempre nel livello scolastico nel livello educativo e vediamo che verrà realizzato un nuovo nido e una materna più spaziosa lo ha detto il sindaco marchetti a sant'ippolito grazie ai fondi del pnrr benedetti questi fondi del pnrr sorgerà un innovativo polo per i bambini da 0 a 6 anni marchetti un servizio che mancava per tutto il comune quindi anche i genitori potranno avere un servizio in più a urbino centro più attrattivo arrivano i fondi per i negozi urbino è rientrato nel bando della regione e 17 imprese riceveranno contributi per i loro investimenti così rilanciamo il commercio lo ha dichiarato l'assessore alle attività produttive elisabetta foschi crediamo molto nelle potenzialità della città legate a turismo studenti e residenti ha detto l'assessore ebbene un centro commerciale naturale federico da montefeltro urbino è rientrata nel bando della regione marche e 17 imprese riceveranno questo sostegno grande attenzione anche alla riqualificazione dell'arredo urbano quindi urbino diventerà anche più bella dal punto di vista estetico ma lo è già e lo è già in maniera molto importante lasciare il territorio senza arcivescovo significa impoverirlo sempre più questa è una dichiarazione del direttore provinciale della conf commercio amerigo varotti anche l'associazione di categoria si è schierata dalla parte di coloro che tentano di resistere alla sottrazione della diocesi e alla unificazione di questa la diocesi di pesaro urbino vuole mantenere la propria autonomia così come i comuni ad esso collegati però insomma la decisione è stata ormai presa e il vescovo di pesaro ha preso la titolarità anche della diocesi di urbino si tenta comunque in extremis di salvare la situazione anche la conf commercio contraria alla decisione del vaticano addio ospedale andiamo in romagna a sasso corvaro il comitato insorge il pat non è un pronto soccorso in tanti spingono per abbandonare le marche e anche la decisione di non qualificare l'ospedale di sasso corvaro il lanciarini ebbene fa sì che ci sia uno spinto verso la scissione nell'altra regione ed è un altro comune che protende verso la romagna dopo quello che è accaduto nell'alto montefeltro pressi di carpegna di villa grande insomma da quelle parti la chiusura totale dell'ospedale lanciarini di sasso corvaro ha reso pericoloso abitare nel molte feltro a dirlo è il presidente del comitato por ospedale tiziano cigni assieme agli altri compene componenti è un comitato che dal 2003 contesta tutti i piani sanitari che si sono susseguiti perché nessuno ha veramente valorizzato questo ospedale che è importante perché dal punto di vista dell'assistenza delle popolazioni che vivono nell'entroterra sarebbe un punto di riferimento estremamente importante avere questi punti di assistenza alle malattie questi punti di cura così decentrati fa consolidare le popolazioni nel territorio vediamo anche qualche notizia sulla pagina pesarese e vediamo che chi è che ha fatto quegli insulti ad una ragazzina che giocava calcio ed era di pelle scura è stato individuato si tratta di un vigile urbano si tratta di un vigile urbano che presta ed è il pesarese pierfranco generali 60 anni ispettore della polizia locale di pesaro distanza al presidio di monbaroccio ebbene lui si giustifica e dice io e mia moglie non siamo assolutamente razzisti non reagisco al video infamante fatto circolare dalla presidente del vicenza calcio femminile solo perché non voglio turbare ulteriormente le mie figlie ha detto ma un giorno la presidente erica maran mi dovrà spiegare che senso aveva farlo dal momento che lei sa benissimo che non era una questione di colore della pelle questo è il commento questa è la giustificazione del genitore che ha così gridato degli epitoti che poi sono stati considerati infamanti nei confronti di una ragazzina di pelle scura appunto che giocava la partita a jesi lui e sua moglie sono due genitori delle giocatrici della jesina accusati di un episodio di razzismo nei confronti della 22enne nigeriana raffiat folachemi sulle delle vicenza calcio femminile avvenuto domenica sul campo di tarvernelli di altavilla vicentina durante il match di serie c ebbene e poi qui ovviamente ci saranno le indagini che appureranno come si sono suolti i fatti ed ora qui vediamo la sorta invece di due chiese di due chiese che sono state interessate in maniera problematica dal terremoto una è quella di candelara quell'altra è quella invece di ronco sambaccio pronti i tiranti per la pieve di candelara donna cernuschi il parroco lo stato chiede faccia alla sua parte ieri c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici nell'antica chiesa chiusa per il terremoto e che si vuole riapire almeno entro pasqua il sacerdote dice spero che la sovrintendenza non si limiti solo a fare rispettare i vincoli ma ci aiuti a ridare tutti un bene prezioso ma contribuisca anche alla realizzazione dei lavori e questa appunto la speranza del parroco don piero cernuschi che vedete qui in questa immagine a ronco sambaccio la situazione è ugualmente seria la chiesa è blindata tra le rovine dal momento in cui è avvenuto il terremoto non è stata più riaperta domenica c'è la festa di sant'antonio ci sarà la benedizione ma il tutto avverrà all'aperto perché l'interno della chiesa è inagibile è crollato parte del soffitto è crollato dalla parte dell'altare le macerie erano visibili subito vediamo anche qui nelle fotografie vediamo i mattoni i coppi che sono caduti all'interno della chiesa la chiesa è chiusa ed è impraticabile chissà per quanto tempo lo resterà ha dichiarato don gianni il parroco della madonna del carmine di fano di ronco sambaccio il quale allarga le braccia da quel 9 novembre da quelle scosse terribili che hanno provocato danni e crolli la chiesa di ronco sambaccio non si è più risollevata e al momento non si vede quando ripotrà quanto potrà rifare e veniamo alla cronaca qui vediamo invece due articoli sulla stessa pagina pubblicati dal resto del carlino si tratta di violenze che degli uomini hanno compiuto sulle loro compagne sulle donne lei lo rifiuta lui pubblica le sue foto sul sito hot si tratta di un ventottenne che voleva vendicarsi di una pesarese di 23 anni per un amore non corrisposto denunciato dovrà svolgere lavori socialmente utili la ragazza si è accorta quando hanno incominciato ad arrivare proferte sessuali sul suo telefono ebbene questo ragazzo cosa ha fatto ha pubblicato delle scritte con riferimento proprio del cellulare di questa ragazza facendo credere che è una ragazza molto disponibile ovviamente qualcuno è arrivato a fargli delle offerte questa ragazza è caduta dal cielo perché non si aspettava che ci fossero queste cose queste offerte di tipo sessuale e quindi ha capito che era stato il ragazzo che cercava appunto di voler stare con lei ma lei lo aveva rifiutato e quindi dovrà risponderne in tribunale ma sembra che abbia già accettato dei lavori socialmente utili e poi l'altro caso invece riguarda un imprenditore che si invaghisce della dipendente e perseguita lei è il fidanzato in realtà sembra che questo imprenditore abbia abbia intrecciato una relazione con la sua dipendente ma poi si era invaghito veramente e quindi l'aveva amminacciato di rivelare tutto quanto il suo ex fidanzato ma poi finisce lui stesso in tribunale la donna ha troncato la relazione il titolare non l'aveva accettato e manda foto o se al partner ebbene che cosa è accaduto tutto è iniziato nel 2020 anzi da prima ovvero da quando l'imprenditore e la dipendente avevano avuto una relazione la donna è fidanzata però insomma c'è stato anche un problema con il suo fidanzato il suo datore di lavoro è sempre più preso di lei al punto di volerla portare via dal fidanzato lei ha detto di no e qui è nata tutta la vicenda vediamo anche le altre notizie c'è anche un articolo che riguarda piazzale primo maggio sul resto del Carlino un piazzale degradato la sua situazione è apparsa anche nei giorni scorsi nei giornali solo degrado e promesse il coordinamento di fratelli d'italia punta il dito contro l'amministrazione anche qui come per tanti altri progetti tante parole e zero fatti è un'area di capitale importanza quella di piazzale primo maggio perché fa da raccordo tra la zona mare e il centro storico e quindi è un luogo di intenso passaggio vediamo anche la pagina che riguarda che riguarda scusate eccolo qua che riguarda la banca di pesaro che supporta abio e caritas sono stati consegnati contributi per sostenere l'azione delle due organizzazioni che aiutano bambini e bisognosi la recessione e la crisi fanno saltare l'equilibrio sociale ed economico e quindi il covid ha mandato per aria l'organizzazione sanitaria con particolare riferimento dei bambini ed ecco allora che la caritas deve surrogare la dura criticità del welfare e dell'abio associazione bambini in ospedale che deve cercare di garantire ai piccoli degenti ciò che le strutture sanitarie non riescono più a supportare e quindi ecco che arriva la banca di pesaro che supporta appunto queste due istituzioni che aiutano in modo particolare le persone più fragili e tra queste ovviamente i bambini vediamo ora la pagina di Fano del Corriere Adriatico dove c'è una notizia in esclusiva cancellata la Colle Marathon 2023 troppo impegnativo organizzarla i promotori purtroppo rinunciano il sindaco Seri convoca una riunione d'urgenza per cercare di salvare la situazione troppo importante e questa iniziativa sportiva per tutto il territorio ne beneficiano gli alberghi ne beneficiano i ristoranti ne beneficiano dal punto di vista economico ma soprattutto ne beneficia anche lo sport perché questa è una delle maratone più belle d'Italia svolta in un paesaggio tra collina e mare che è veramente unico nel suo genere Colle Marathon dunque addio almeno per il momento almeno per quest'anno ma se non cambierà il quadro probabilmente per sempre scrive Andrea Amaduzzi anzi a proposito di Andrea Amaduzzi devo dire che abbia avuto molti riscontri positivi la trasmissione che Fano TV ha inaugurato martedì scorso dedicata allo sport e ci sono trattati sport come il calcio come il volley e come il rugby ebbene l'annuncio di cancellare l'edizione 2023 che avrebbe dovuto svolgersi il 7 maggio arriva a sorpresa ma fino a un certo punto perché già si temeva qualcosa del genere troppe le incertezze con cui gli organizzatori hanno continuato a misurarsi anche in questi mesi dopo che Annibale Montanari è stato colui che ha inventato e che ha organizzato per tanto tempo questa gara sportiva dopo che Annibale Montanari già un secondo dopo la conclusione dell'edizione scorsa quella del maggio del 2022 aveva rifatto il censimento di criticità che gravavano già prima e che gravavano già prima e che sono attuali presenti ancora oggi e criticità che sono state risolte e quindi ora si sospende almeno per quest'anno questa bella bella gara lanciamo una raccolta di fondi per rendere felice Thomas anche il Corriere Adriatico lancia questo appello in favore di questo bambino disabile per l'acquisto di una bicicletta che costa 9.000 euro e qua c'è un articolo di apertura nella seconda pagina dedicata al Carnevale Allegria e musica Vasco Rossi si tessera all'ente carnevalesca e poi c'è anche una canzone nuova dedicata al Carnevale la sta componendo Casini si tratta di una canzone di autore che qualificherà ancora di più appunto il Carnevale e chi la canterà questa canzone? la canterà Davide Mattioli che è la star della musica italiana nella Repubblica Ceca e beh insomma una bella iniziativa una bella concomitanza questa la canzone Vasco Rossi insomma sono cose che poi rilanciano nel Carnevale a livello nazionale ma anche a livello internazionale due studenti travolti sulle strisce a Fossombrone mentre vanno a lezione all'istituto Donati l'incidente si è verificato alle 7 il ragazzo è stato urtato da un'auto e ha trascinato sull'asfalto anche il compagno con cui appunto procedeva verso la scuola sono due giovanissimi studenti le cui condizioni con il passare delle ore per fortuna non sono risultati gravi comunque sono stati investiti sul passaggio pedonale mentre stavano attraversando la strada l'allarme è scattato appunto qualche minuto dopo le 7 di ieri è un'auto furgonata sulla quale viaggiava un 45enne del posto a investire il ragazzo vediamo anche la pagina di Senigallia suolo pubblico gratis per gli alluvionati la Tari rinviata e le tariffe non aumenteranno sono dei contenuti che sono nel bilancio di previsione Senigallia ha approvato questo strumento urbanistico questo strumento contabile un bilancio che permetterà appunto di operare immediatamente per il 2023 per quanto riguarda la gestione dei conti gli investimenti e le spese correnti cosa che purtroppo il Comune di Fano non potrà fare almeno fino alla prossima seduta del Consiglio Comunale in quanto non è riuscito ad approvare entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per il 2023 troppe le incertezze che gravano sulle bollette sull'aumento delle materie prime per quanto riguarda gli appalti e quindi si dovrà aspettare almeno un mese in cui graverà il bilancio provvisorio un dodicesimo della spesa compiuta nell'anno precedente per poi procedere regolarmente dopo l'approvazione del bilancio apriamo il giornale sulla pagina di Pesaro e vediamo come si parli di decoro urbano in questo articolo centro l'osservatorio sul decoro è un colpo di spugna antidegrado le segnalazioni degli scheletri delle bici ai muri ricoperti di scritte l'iniziativa legata allo sportello d'ascolto il venerdì a Palazzo Gradari la foto pubblicata è significativa una ruota di biciclette staccata dal contesto che fa brutta figura di sé in un portabiciclette ebbene ieri si è svolta la prima riunione operativa propedeutica alla creazione di un osservatorio per il decoro urbano presenti gli assessori alle attività economiche manutenzioni lavori pubblici il comandante della polizia locale e dirigenti di Aspes e di Marche Multiservizi un incontro allargato voluto dall'assessore Francesca Frenquellucci che entra nel merito per ragionare su come migliorare l'immagine della città e quindi lotta contro il degrado contro certe situazioni che veramente sconfinano anche nella tutela dell'ordine pubblico perché questo probabilmente è anche l'esito di un furto di un parte di una bicicletta si vede che la ruota non si riusciva a togliere dal portabiciclette hanno smontato il tutto e hanno portato via il resto questa comunque è un'ipotesi Biolab dal comune alla regione Caputo rassicura sulle sperimentazioni animali Biolab dal comune alla regione Caputo rassicura riunita riunita la commissione sanità a Baiocchi fratelli d'Italia passaggio istituzionale necessario dopo l'acceso di battito e fa ancora parlare di sé questo laboratorio di biosicurezza alla torraccia ci sono stati ora due giorni di rassicurazione per cercare di calmare le polemiche sorte tra i residenti che non ne vogliono sapere di avere a pochi passi dalle loro abitazioni un laboratorio che fa esperimenti sui virus sui virus degli animali si sono date tutte le rassicurazioni possibili e immaginabili ma ovviamente la gente è a paura e quel laboratorio non lo vuole la strada di San Nicola è ancora chiusa dopo 14 anni la frana resta veramente un incubo 14 anni per rimuovere una frana è una cosa indescrivibile i residenti al comune quei blocchi di cemento vanno tolti il percorso alternativo è a rischio e quindi ormai questa strada è invasa da tutta la vegetazione ed è veramente un caso emblematico di disinteresse abbiamo anche qui la pagina della cronica per quanto riguarda la violenza sulle donne la ragazza dice no la ripicca è hot cellulare e foto sul sito di escort la violenza può essere fisica ma è anche morale e questa è l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento alle 7 di domani mattina e per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera con Occhio alla Notizia il Tg di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci e per la notizia grazie a tutti Grazie.